L'industria farmaceutica e l'innovazione hanno un rapporto preferenziale, soprattutto per quanto riguarda i nuovi device? Sì, soprattutto per quanto riguarda la nostra azienda, che tratta sostanzialmente dispositivi medici. La parte dell'innovazione è una parte assolutamente importante, soprattutto in questa fase di mercato. Laddove ci sia un accentramento da parte degli acquisti, se si parla del pubblico, ma in linea generale, per quello che riguarda pubblico e privato, sicuramente una richiesta di riduzione dei costi. In questo caso la parte dei servizi, legati anche al prodotto, la fa da padrone e quindi lo sviluppo di nuovi servizi, e quindi passare da un marketing dei prodotti a un marketing dei servizi, è assolutamente fondamentale per poter competere in questo nuovo mercato. Quali sono i nuovi servizi, quelli più innovativi? Beh, ci sono vari esempi e in questa fase tutte le aziende presenti in questo mercato, che trattano dispositivi medici, stanno sviluppando diversi servizi che possono andare a competere con la riduzione dei costi a livello di mercato, ma soprattutto sono servizi dedicati al paziente, quindi paziente come accesso al paziente in questo mercato, che è la cosa fondamentale dal punto di vista di sistema sanitario nazionale.